L'alta scuola, imprese e società nasce 15 anni fa sui temi della sostenibilità in base agli obiettivi dell'ONU per il millennio e nasce sui temi della responsabilità sociale d'impresa. In effetti presso Altis si attiva il CSR Manager Network, il network dei manager della CSR. Oggi le imprese stanno dando un grandissimo esempio in termini di responsabilità sociale. Pensate agli aiuti che alcuni stanno dando, non li cito perché non è il caso, ma sono nella mente di tutti quanti noi. Pensate all'aiuto che alcuni stanno dando allo Stato, stanno dando agli ospedali, stanno dando a tutto l'apparato pubblico che è dedicato a combattere il virus. Praticamente applicando il principio di sussidiarietà al contrario, alla rovescia, disegnando un nuovo modo di fare welfare e di aiutare il benessere delle persone. Il privato che ha responsabilità nei confronti della società e che diventa sussidiario nei confronti dello Stato, che da solo non riesce. Grazie. 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 Grazie.